Bullismo, misura cautelare per due giovani, entrambi sono indagati per episodi risalenti alla scorsa estate. Inaugurato al Palazzo di Giustizia di Caltanissetta l'anno giudiziario. Caltanissetta, lutto in questura, è morto il poliziotto Angelo Salerno Solarino. Comune di Caltanissetta, proposta del consigliere Oscar Riello. Musica, il primo singolo della giovane cantante nissena Cetti Presti Filippo. Bentrovati, Bullismo, misura cautelare per due giovani, entrambi sono indagati per episodi risalenti alla scorsa estate. I carabinieri del nucleo operativo di Gela, in provincia di Caltanissetta, hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di due ragazzi minori indagati per atti di bullismo. Gli episodi risalgono alla scorsa estate e riguardano una serie di comportamenti nei confronti di un altro minore, vittima di vessazione a cui fu sottratto anche un cellulare. Il tutto è scaturito da una segnalazione al 112, al primo intervento dei militari in difesa del minore e alla successiva attività di indagine, condotta dal nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Gela è coordinata dalla Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta. L'attività investigativa ha consentito di identificare gli indagati per i quali il giudice delle indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta ha disposto una misura cautelare della permanenza in casa. Corsa di cavalli clandestina, blitz di poliziotti e finanzieri nelle vicinanze di Naro. Sabato mattina, incontrata a Ciccobriglio, nel territorio di Naro, in provincia di Agrigento, la polizia della squadra mobile di Agrigento, con il commissariato di Canicattì e i militari della Guardia di Finanza, hanno bloccato e interrotto una corsa clandestina di cavalli, prendendo in consegna i due animali coinvolti. Sono state fermate circa 30 persone di Agrigento, Campobello di Licata, Canicattì e Palma di Montechiaro. Sarebbero i presunti organizzatori dell'evento, i fantini e gli scommettitori che sono stati portati alla caserma Anghelone, dove la polizia e la procura della Repubblica di Agrigento, hanno analizzato ogni singola posizione. Il blitz è scattato in seguito all'attività investigativa della polizia di Canicattì. Secondo le prime ricostruzioni, l'attività illecita avrebbe consentito scommesse per diverse migliaia di euro. Lo stesso scenario, con simile dinamica, si è verificato nel novembre del 2020. Caltanissetta, lutto in questura, è morto il poliziotto Angelo Salerno Solarino. Nella notte fra sabato e domenica è deceduto all'età di 45 anni Angelo Salerno Solarino, poliziotto in servizio alla questura di Caltanissetta. Si è spento all'Humanitas di Catania, dove era in cura da novembre per una brutta malattia. Angelo, originario di Gela, Madani, residente a Caltanissetta, lascia la moglie e due figli. La sua scomparsa ha colpito tutti i colleghi della questura nissena, che lo ricordano come una persona solare e buona. Non doveva andare così, ha scritto il segretario provinciale generale del sindacato della polizia di Caltanissetta, Fabio Fazzi. Un saluto, amico mio. Continuerai a trasferirmi gioia con i tuoi modi che ti hanno sempre reso unico. L'ultimo saluto sarà domani, martedì 31 gennaio, alle 10.30 alla cattedrale di Caltanissetta. Caltanissetta, cantieri di servizio per 34 lavoratori. Parla l'assessore comunale Cettina Andaloro. Via libera ai fondi per dare occupazione ai 34 lavoratori con reddito minimo. I cantieri di servizio sono finanziati annualmente dalla Regione, ma dallo scorso anno erano stati sospesi in attesa dell'assegnazione e il finanziamento dell'anno in corso. Adesso c'è il via libera da parte dell'assessorato regionale e il programma prevede l'utilizzo dello stesso numero dei lavoratori che erano in servizio alla fine dello scorso anno, ossia 34. Ne abbiamo parlato con l'assessore alle politiche sociali Cettina Andaloro. Il giorno 1 posso dire che finalmente pigliano servizio questi lavoratori. Sono in tutto 34 e sono rimasti dei 134 iniziali. I lavoratori ex RMI fanno parte di un progetto regionale che però ogni anno viene riformulato e rifinanziato con soddisfazione, ed è giusto che lo dico, posso dire che il Comune di Caltari 7 è uno di quei comuni che si può permettere di anticipare il finanziamento per questi lavoratori. Così è stato negli altri anni e così sarà anche quest'anno. Dal giorno 1 posso assicurare a questi lavoratori che avranno lo stipendo anticipato. Cominciano a febbraio, come i primi di febbraio avranno lo stipendo anticipato. Siamo, la lettera di finanziamento, di avvalo del finanziamento è arrivata il 16 dicembre dalla Regione. Con questa sicurezza noi che siamo un Comune che può, ripeto, anticipare le somme, li stiamo facendo iniziare da giorno 1 e avranno lo stipendo anticipato. Sono contenta di dire questo anche perché non tutti i Comuni hanno avuto questa possibilità. Infatti nella letta del regionale c'era scritto di poter anticipare le procedure per tutti quei Comuni che potevano iniziare e noi siamo uno di questi e sono contenta di affermarlo. Al Comune di Caltanissetta una proposta sui lavori socialmente utili. Ruote ferme pedoni salvi. Il nome del progetto proposto all'amministrazione attraverso una mozione dai consiglieri comunali Valeria Visconti e Oscar Aiello, che è anche capogruppo della Lega. Si chiede infatti al Sindaco e all'Aggiunta di aderire al progetto di sicurezza stradale attraverso un protocollo di intesa tra l'associazione familiari e vittime della strada Ollus, il corpo di polizia municipale Nisseno e l'ufficio locale di esecuzione penale esterna. Il Comune di Caltanissetta potrebbe avere a disposizione personale a titolo gratuito per vigilare la sicurezza in strada nelle ville davanti alle scuole, spiega il capogruppo della Lega Palazzo del Carmine, che si riferisce ad un progetto avviato già in altri comuni. Tale progetto, che ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Giustizia e dell'Anci, aggiunge a una doppia finalità assicurare una maggiore tutela per gli utenti deboli della strada, ossia i pedoni, responsabilizzare chi ha commesso un reato in violazione del codice della strada. Si tratterebbe di un'iniziativa senza costi per il Comune, dato che viene finanziato dal Fondo Vittime della Strada. E poi ancora entra nei dettagli. Le persone infatti prese in carico dall'Uepe, co-riferimento, precisa Oscar Aiello, sia l'Istituto della Sospensione del Procedimento commessa alla prova, sia quale pena sostitutiva per i reati di guida e stato di ebrezza alcolica e sotto effetto di stupefacenti, dopo un corso di formazione entreranno nel ruolo di assistenti pedonali, che, adeguatamente formati dagli agenti di Polizia Municipale, prosegue, presideranno gli attraversamenti pedonali laddove risulti un particolare volume di traffico, come ad esempio davanti alle scuole o in qualunque altro luogo di aggregazione sociale. Mercoledì tornerà a riunirsi il Consiglio Comunale di Caltanisset. Il Consiglio Comunale è convocato per mercoledì 1 febbraio alle ore 18 per un Consiglio monotematico per la discussione ed organizzazione degli eventi natalizi appena trascorsi. Dopo la conferenza dei capigruppo del 26 gennaio, che con determinazione ha chiesto questo Consiglio, il Presidente del Consiglio Giovanni Magri ha convocato dunque questo Consiglio straordinario. Giovedì scorso ho convocato una capigruppo, proprio per calendarizzare questo Consiglio. Per i non addetti ai lavori, ricordo che il Presidente del Consiglio deve convocare entro 20 giorni dalla richiesta di Consiglio. In questo caso è arrivata una richiesta di Consiglio comunale da parte di diversi consiglieri comunali, che appunto come ordine del giorno, come Consiglio monotematico, chiedevano un Consiglio comunale per discutere delle attività messe in atto da parte dell'amministrazione comunale nel periodo natalizio, nell'ultimo periodo delle festività natalizie. Dunque, giovedì scorso, con questa conferenza di capigruppo, abbiamo definito, abbiamo determinato anche la calendarizzazione e quindi questo Consiglio comunale. Sabato al Palazzo di Giustizia di Caltanissetta è stato inaugurato l'anno giudiziario. Cosa Nostra continua ad essere l'organizzazione mafiosa dedita al controllo del settore degli appalti, grazie alla complicità di persone che sono ben inserite negli apparati amministrativi locali, dei rifiuti, dell'edilizia e nell'agricoltura, oltre che negli affari illeciti dovuti alle scommesse, allo spaccio dei stupefacenti e dello sfruttamento. Con queste dure parole del presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta, Maria Grazia Vagliasinti, si è inaugurato l'anno giudiziario. Il presidente Vagliasinti ha affermato anche come le organizzazioni mafiose hanno capacità eccellenti di infiltrazioni anche in altre regioni italiane, tipo Piemonte, Liguria e Toscana, e le datate Lombardia e Lazio. Ma si estendono anche all'estero, ad esempio in Germania, dove risultano radicati clan mafiosi di origine ennese e nissena. Il procuratore generale di Caltanissetta, Andorino Patti, si è soffermato invece ad elogiare il lavoro del procuratore Salvatore De Luca, che con determinazione sta guidando la procura in una monumentale attività di indagine sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, sottolineando lo spirito di abnegazione di tutti i magistrati che lavorano a tempo pieno e con passione, sacrificando la loro vita privata ed esposti a pericolo. Musica e tempo del primo singolo per la giovane cantante nissena Cetti Presti Filippo. Si chiama Cetti Presti Filippo, per tutti i Cetti, che dopo Demoni in collaborazione con Ropes, è uscita con il suo primo singolo Diversa, prodotto da Corrado Sillitti. Abbiamo ascoltato la cantante nissena, a cui abbiamo posto alcune domande. Musica e tempo Facendo io dentro di me, su ciò che ho passato anche nel passato, sul fatto delle insicurezze che ho avuto, grazie alla musica sono riuscita a fare capire un po' tutte le mie insicurezze, sperando che tutto ciò porti anche ad avere un po', come posso dire, un incoraggiamento su altre donne, anche sul proprio aspetto fisico, incoraggiarle a sentirsi più sicure di se stesse. Io questa canzone la dedico in primizio a me stessa, perché come dicevo appunto prima, ho avuto molte insicurezze, soprattutto sul mio aspetto fisico e ad oggi mi sento abbastanza sicura, perché tanto la gente ha sempre che giudicare. O se sei bella, o se sei magra o in forma, giudica ugualmente. Quindi io il messaggio che voglio mandare è di lasciar perdere le persone e piacersi in prima persona a me stesse. Quindi spero di incoraggiare soprattutto le donne che si sentono insicure ad oggi, soprattutto le donne. Io spero di andare avanti, spero di portare avanti questa mia passione. Speriamo bene ora. Io sono diversa, ehi, 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 da te che sei sempre la stessa, ehi, ma dimmi cosa c'è di male, se resto qui a sognare, ma io sono me stessa e mi piaccio così. E se sei bassa, grassa o magra ti guardano, e se anche fossi la più bella ti buttano giù. A loro piace giudicare, ti vorrebbero cambiare, ma io sono me stessa e mi piaccio così. E non mi importa perché sono sicura di me. E questo suono, io giuro che non cambia mai. Adelasia e i pupi di zucchero, massiccia partecipazione di pubblico al Teatro Margherita di Caltanissetta. Grande successo di pubblico ieri sera al Teatro Margherita per Adelasia e i pupi di zucchero. L'associazione Naponos ha portato in scena il mito di Adelasia, la principessa normanna del centro Sicilia, in chiave fiabbesca, e la tradizione popolare siciliana dei pupi di zucchero. È stato un lavoro teatrale per bambini e adulti. Un'avventura romantica che si trasforma in viaggio alchemico attraverso simboli e archetipi della cultura siciliana, e conduce bambini e ragazzi attraverso la storia delle origini medievali della città di Caltanissetta, mostrando l'importanza storico-culturale di alcuni prodotti dell'eccellenza dolciaria siciliana. Lo spettacolo è stato patrocinato dal comune di Caltanissetta e adesso verrà portato nelle scuole, per un messaggio di cultura e di promozione della nostra città. Nel ricordo di Ilenia Scarantino, maratona di fitness al Palacanizzaro di Caltanissetta. Domenica, presso il Palacanizzaro di Caltanissetta, si è tenuta la manifestazione Una Stella per Aism, una maratona di fitness in memoria di Ilenia Scarantino, scomparsa a 29 anni nel 2020. Ilenia era una sportiva che si era distinta a livello nazionale, istruttrice di ginnastica funzionale dello Spartan System che ha diffuso in Sicilia. L'evento, partito dalle 10 del mattino è concluso nel tardo pomeriggio, ha visto alternarsi varie lezioni di fitness, come il group cycling, l'allenamento funzionale, lo Spartan System, il mastertonic, il bodyweight, il pilloxing e altre varie. Una giornata ricca soprattutto di emozioni, ma ovviamente la prima parte è concentrata tutta sul fitness. Diverse lezioni con dei presenter nazionali che sono venuti tutti qui per omaggiare Ilenia, che era una collega voluta bene da tutto il mondo fitness. Calcio, San Cataldese e Nissa, entrambe vittoriose rispettivamente contro Lamezia e Parmonval. La San Cataldese supera con un perentorio 2-0 in Lamezia al Valentino Mazzola di San Cataldo contro un avversario quotato e blasonato. I verde amaranto sfoderano una prestazione senza sbavature conquistando tre punti pesanti per la classifica. Il primo gol al trentasettesimo parte dai piedi di Baglione con la deviazione di Zerbo. Il raddoppio su calcio di rigore al sessantesimo trasformato da Bonanno. Nel finale gli ospiti si fanno vedere dalle parti del portiere della San Cataldese, ma non trovano la via della rete. I risultati della ventiduesima giornata del girone I di Serie D. Vibonese Catania 0-2, Acireale Castrovillari 1-2, Licata Mariglianese 2-0, Santa Maria Cittanova 1-0, Ragusa Paternò 1-1, Real Aversa Canicattì 0-1, San Luca Locri 2-4, San Cataldese Lamezia 2-0, Trapani Sant'Agata 1-1. La classifica Catania 54 punti, Locri 40, Sant'Agata e Lamezia 36, Licata 35, Vibonese 34, Trapani e Canicattì 29, San Cataldese e Santa Maria 28, Acireale, San Luca, Castrovillari e Ragusa 23, Cittanova e Real Aversa 21, Paternò 17, Mariglianese 11. Nel campionato di eccellenza, girone A, la Nissa torna al successo in trasferta dopo due sconfitte consecutive. I biancoscudati segnano quattro gol alla Parmondal ultima in classifica. Prima rete di Vignone in acrobazia al 36esimo, nulla può l'estremo difensore locale. Sullo 0-1 la Nissa continua ad attaccare al 39esimo e Morales ad andare in gol, ispirato da Faramarna. Nella ripresa Lusero sbaglia un calcio di rigore, ma la squadra di Alessio Sferrazza non si ferma e al 61esimo ancora Morales va in gol su calcio di punizione. Sotto di tre reti la Parmondal cade ancora nel finale all'ottantacinquesimo e è esposito a firmare il poker della Nissa. I risultati della diciannovesima giornata del campionato di eccellenza. Castellammare-Resuttana 0-2, Parmondal-Nissa 0-4, Acragas-Casteldaccia 1-1, Cus Palermo-Enna 1-3, Gela-Don Carlo 1-1, Oratorio Marineo-Sciac 1-2, Profavara-Mazzara 2-2, Mazzarese-Leonfortese 0-1. La classifica Enna 47, Acragas 46, Profavara 39, Don Carlo 37, Mazzara-Esciac 33, Mazzarese 31, Casteldaccia e Nissa 25, Leonfortese 20, Oratorio Marineo 19, Castellammare 17, Resuttana 14, Gela 13, Cus Palermo 11 e Parmondal-8. Basket serie D, Invicta-Caltanissetta-Corsara a Cefalù. L'Invicta continua a dettare la sua legge e riesce ad uscire vittoriosa anche dal parquet di Cefalù, dove conquista matematicamente il primo posto in vista dei play-off di fine stagione, quando si affronteranno le rivali del girone A. La zannella Cefalù viene battuta per 63-74 da un'Invicta temeraria, ormai sicura dei propri mezzi e consapevole del proprio destino. Appuntamento a domenica 5 febbraio al Palacanizzaro, dove la formazione nissena affronterà la pallacanestro Sant'Agata. Basket serie D, undicesima giornata del girone B. Basket Messina-Virtus-Trabbani 69-59. Zannella-Cefalù-Invicta 63-74. Sant'Agata-Leonardo da Vinci 78-70. Riposa-Capobasket. La classifica. Invicta 18. Capobasket Zannella-Cefalù 12. Sant'Agata 10. Leonardo da Vinci 6. Virtus-Trabbani 4. Basket Messina 2. Ancora basket, promozione, Cusn-Caltanissetta, affermazione casalinga contro la capolista Olimpia. Vittoria importante della Cusn-Caltanissetta di Basket, che batte la capolista Olimpia al Palacanizzaro per 65-49, agguanda il secondo posto e si porta a sole due lunghezze dalla squadra ragusana. Partita tesa ed equilibrata, che si sblocca solo al quarto e ultimo tempo, dopo una tripla messa a segno dalla squadra nissena che porta la gara dalla sua parte e spezza le ultime speranze dell'Olimpia, che si era rifatta sotto. Adesso, per la Cusn, arriva il turno di riposo e scenderà nuovamente in gabba a metà febbraio. Basket, promozione, non aggiornata del girone D. La Fenice Priolo Salusport 36-64. Cusn-Olimpia 56-49. Riposa Nuova Città di Gela. La classifica. Olimpia 12. Cusn 10. Nuova Città di Gela 8. Salusport 6. La Fenice Priolo 0. La partita a un certo punto è diventata molto fisica, però loro stavano recuperando. Siamo andati un po' in sofferenza, però alla fine siamo riusciti con uno sforzo collettivo a tenere il vantaggio e a portare la partita a casa. È stato bello perché è stato uno sforzo di tutti. Abbiamo battuto la prima, non l'avevano mai perso, quindi è una soddisfazione enorme veramente. Siamo contenti tutti quanti. Essenzialmente abbiamo fatto una vittoria importantissima, abbiamo ribaltato il risultato dell'andata, abbiamo perso di 4 punti a Ragusa. Confermiamo il secondo posto, dunque continuiamo così cercando di migliorare anche i risultati in trasferta. Fino adesso non abbiamo mai perso dentro le nostre mura, però cercheremo di migliorare e fare questo salto di qualità. È tutto, vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità. Grazie per l'attenzione e appuntamento rinnovato alle prossime edizioni. Ben ritrovati dai Maperigie di Trebimeteo ad un nuovo appuntamento previsionale. Una situazione meteo buona, tranquilla, quella di martedì sulla nostra penisola, grazie all'alta pressione ormai quasi dominante sul territorio, favorirà stabilità atmosferica fatta eccezione per ancora qualche disturbo all'estremo sud. La nuvolosità sarà sì presente, innocua e di passaggio, localmente anche compatta nella prima parte del giorno come si anticipava all'estremo sud sulle isole maggiori e comporterà deboli precipitazioni associate, ma saranno poi in rapido esaurimento diurno. Osserviamo in definitiva cosa ci attenderà martedì, ebbene tanto sole al centro nord. Avremo invece qualche disturbo a inizio giornata come si anticipava tra Puglia, Calabria, Sicilia, localmente anche sulla Sardegna, ma fenomeni di poco conto. Il clima non è particolarmente freddo nonostante siamo nei giorni della merla. Le temperature massime sono in rialzo, grazie all'attenuazione delle correnti artiche che per diversi giorni hanno interessato il nostro territorio. Tutti i dettagli sulle vostre località vi attendono come sempre sull'app gratuito a Terebimeteo. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno, Caltanissetta, servizio diurno, Pantano, via Don Minzoni, servizio notturno, Croceverde, Viale della Regione.